Non ce l'ha fatta l'educatrice 36enne Romina Bannini, trasportata in condizioni gravissime all'ospedale di Treviso, ha perso la vita nella notte. Purtroppo è la settima vittima della strage in autostrade, in quello che ormai viene definito il tratto maledetto della 4 tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove ieri sono morte sei persone che stavano viaggiando sul furgone della Cop Disabili del Lions Club Riccione, l'associazione Centro 21. Sul furgone erano presenti 5 disabili e l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi, che secondo quanto ricostruito stava guidando il furgone. Con la morte della giovane educatrice non è sopravvissuto nessuno al terribile schianto. Grazie per la visione!